Non è facile ripartire. Lui, sempre sorridente, nonostante la vita gli abbia voltato le spalle strappandolo troppo presto agli affetti dei suoi cari, della piccola stella e dell'amore Carlotta Mantovan. Già, Fabrizio Frizzi non c'è più, ma è difficile farsene una ragione. Da marzo il mondo della tv non riesce a colmare questa grave perdita. Lui, uomo tutto d'un pezzo, e non potrebbe essere altrimenti, considerati i giudizi unanimi dei colleghi, virgola, professionista esemplare. Che avrà guidato dall'alto, con il suo immancabile sguardo sorridente, il nuovo inizio della figlia stella. Buon primo giorno di scuola, amore mio ha scritto qualche giorno fa mamma Carlotta sui social, rompendo un silenzio che durava da troppo tempo. Per Carlotta Mantovan e Stella Frizzi adesso è tutto diverso. La piccola di casa con l'avvio di un nuovo percorso di vita farà nuove amicizie, imparerà tante cose e chissà quante volte le parleranno di suo papà, e del suo animo buono. Carlotta, invece, da quest'anno è tornata in Rai. Per lei spazio a tutta salute, programma di Rai 3 in onda il sabato. Ma la Mantovan, recentemente, l'abbiamo vista tornare lì dove una decina di anni fa ha conosciuto il mondo. Il suo Fabrizio. Miss Italia. Lui conduceva, lei conquistava alla tanto desiderata coroncina. Punto durante la finalissima di Miss Italia 2018, infatti, c'è stato un momento di grande commozione con un momento molto toccante. L'ingresso di Carlotta Mantovan, e una stand di Govacchion tutta dedicata al compianto Fabrizio. Ma come se la passano, nella vita di tutti i giorni, la vedova Frizzi, e la piccola Stella? Come dicevamo in apertura l'ex modella e giornalista ha ricominciato a lavorare, diventando la nuova co-conduttrice di tutta salute, su Rai 3, accanto a Michele Mirabella. Il settimanale diva e donna ha paparazzato Carlotta in compagnia di Stella. Punto la Mantovan sta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni. A darle forza la figlia Stella, con cui è stata fotografata dal settimanale in un parco della capitale. La mamma e la piccola giocano allegre, mentre Stella tiene in braccio il pupazzo di Vodi, personaggio del cartone animato Toy Story, che il papà ha doppiato nel 1996. .